Il primo tempo abbiamo avuto due belle palle, una con Poli e l'altra di testa con Poli, un paio di situazioni dove potevamo far meglio l'ultimo passaggio. Il secondo tempo abbiamo rischiato solo nell'unica volta nel contropiede, abbiamo preso un pallo con Robigno, Pugioni ha fatto due bellissime parate, soprattutto la prima con Emanuel Edson, dopo il pallo con Robigno la palla è capitana nei piedi cacca. Allora, bastava fare i gol, non siamo riusciti, però ragazzi, soprattutto dopo la partita di mercoledì, oggi hanno fatto una buona prestazione, non era facile perché avevamo bisogno della vittoria, non ci siamo riusciti, però non possiamo dire che il Milan ha giocato una brutta partita. Ammesso che tu riprenda dopo la sosta, non si sa cosa pensi di fare, come pensi di sistemare la situazione tragica. Siete ottimisti però, il funerale con fronte a voi è carnevale.